Continua a evolvere il mondo URMET in termini di tecnologia, con l'evoluzione e l'ampliamento delle soluzioni IP che permettono una vera integrazione tra sistemi, sia di sicurezza che di videocitofonia. Si è integrato il discorso dell'arricchimento di quello del posto esterno URMET con un sistema di controllo accessi adatto al residenziale, mantenendo sempre delle caratteristiche per noi fondamentali di vicinanza alla semplicità installativa nel mondo dell'installazione. Perciò al nostro cliente di riferimento per l'installatore continuiamo a dare disponibilità con l'evoluzione tecnologica, ma sempre mantenendo un grado di semplicità installativa e di supporto all'installatore fondamentale nella nostra mission.